... ... ... ... Quindi chiamo soltanto una delle più grosse sezioni della città di Milano dell'Associazione Nazionale Partigiana d'Italia Ivano Taglietti Se state zitti si sente Inoltre, oltre alle sezioni della zona 9 alla sezione Barona questa serata è stata organizzata da un gruppo di persone che fa un lavoro straordinario e che sono ricordate in una canzone dei Ghent dell'album del 2015 che si chiama Sangue e Cenere questo gruppo di persone risiede come lavoro politico a Sesto San Giovanni si occupano di processi contro diciamo contro alcuni dirigenti di diverse aziende pubbliche e private che non hanno pulito l'ambiente di lavoro dall'amianto causando ovviamente drammi familiari, morti eccetera e il Comitato per la Difesa Salute Michele Michelino Applausi Volevo chiamare sul banco prima di iniziare dobbiamo presentare un'iniziativa molto importante che facciamo sabato Claudia Pinelli del direttivo della nostra sezione io sono Lombi e sono Presidente a sezione di riguarda qui davanti a me questa sera c'è Adriana che è stata per non so 60 anni 64 anni la compagna di uno degli ultimi partigiani che è morto quest'anno Carlo Rovelli delle brigate da salto e poi abbiamo il piacere di avere con noi Tiziana Pesce applausi anche quello di tua mamma era molto bello comunque tutte e due esatto certo le ricordiamo sempre insieme sempre insieme allora io devo fare una piccola introduzione poi passo la parola a Claudia che vi racconterà cosa succederà sabato quindi in quartiere alla Casa della Memoria in diversi luoghi con una persona che amiamo molto che è Giovanni Impastato il fratello di Peppino che sarà il nostro ospite e poi vi racconterà lei io devo dirvi solamente una cosa settimana prossima probabilmente la domenica ci sarà un'iniziativa una manifestazione stiamo pensando di organizzare lì al Parco Nord perché nella notte fra domenica e lunedì mentre le urne della Germania erano appena chiuse per la prima volta dopo il 1945 al Bundestag entrava 80 parlamentari di una forza dichiaratamente razzista e xenofoba per la prima volta dopo il 1945 non apertamente non nazista ma diciamo che sono parenti stretti alcuni intrepidi neofascisti si sono introdotti di notte al Parco Nord hanno scalato un punto impervio del Parco sulla cima della collina dove c'è il monumento deportato è un punto impervio perché per accedere al monumento bisogna salire una rampa di scale molto ripida è un simbolo perché quella scala di scale molto ripida è un rifacimento ovviamente in piccolo simbolico di una scala famosa che i deportati erano costretti a salire con le pietre sulle spalle e se calievi morivi ne sono morti diversi migliaia adesso i numeri poi precisi non li sa nessuno allora hanno fatto questo monumento al Parco Nord con le pietre provenienti da Gusen che era questo campo di sterminio e poi hanno messo delle teche con le polveri dei passati per il camino quindi dei bruciati di questi campi di concentramento questi ignoti e trepidi neofascisti hanno preso le pietre le hanno fatte rotolare alcune per il pendio magari a simbolo dei deportati che cadevano e poi le hanno sollevate e con una forza notevole hanno rotto tre teche quella di Auschwitz quella di Gusen e quella di Buche ma adesso non mi ricordo bene contenente queste ceneri sono di vetro blindato quindi ci vuole un bel accanimento oserei dire questo monumento al deportato ricorda i lavoratori soprattutto di questi quartieri quindi parliamo dei nostri padri e dei nostri nonni per essere chiaro quindi non degli estrani che nel biennio 43-45 dal 5 di marzo del 1943 all'officina Merafiori numero 40 alle 10 del mattino iniziarono una serie di scioperi che proseguirono ininterrottamente per due anni scioperi e che interessarono tutto il triangolo industriale Milano Genova Torino quello che venne chiamato dagli storici come il vento del nord decine e decine di scioperi infatti in una situazione in cui c'era un esercito di occupazione straniero la Bermat che era uno dei peggiori eserciti da un punto di vista della capacità omicida pensate che hanno fatto 16.000 vittime civili da Sant'Anna di Stazzema salendo fino a Marzabocco nell'arco di un anno la 12esima divisione Panzer come cazzo si chiamava quella di Walter Re c'era il coprifuoco vigente la legge marziale scioperare era considerato un atto di sabotaggio nei confronti della produzione bellica un delitto nei confronti del terzo regime passibile con l'arresto la deportazione la morte nonostante questo agli scioperi parteciparono qualcosa dicono le croniche dell'epoca come 100.000 laboratori esatto queste sono le nostre radici chi ha colpito quel simbolo ha colpito quelle radici quindi noi domenica saremo lì buonasera dopo l'intervento di Angelo chiaramente l'iniziativa che è stata organizzata con Giovanni Impastato riguarda comunque una storia dell'esistenza Giovanni Impastato il fratello di Pietro Impastato ha appena pubblicato un libro dal titolo oltre i cento passi che sarebbe in vita anche qui fuori ci sarà le varie iniziative e con Giovanni abbiamo cominciato un percorso alcuni mesi fa è venuto con noi a fare il giro delle lapidi che ricordano i pacigiani dei quartieri di Liguarda e abbiamo pensato di organizzare queste presentazioni dei suoi libri qua a Liguarda e li ha ornato a 7 sabato mattina alle 10.30 e sarà presente con noi Renato Satti direttore del teatro della cooperativa e alle 16 come coordinamento delle anti della zona 9 che sono 6 sezioni e con l'anti speciale faremo questa iniziativa alla Casa della Memoria sono momenti che spero che siano un modo per confrontarsi con una storia che è una storia di resistenza alla mafia una cosa che ci sembra così lontana ma non è molto lontana infatti recentissimi nei comuni di Lumiotrofi ci sono tante mafie ecco è un bel modo per confrontarci e per continuare a portare avanti infatti solo perché è nostra la storia di questa famiglia che ha la mafia seri brillata e che porta avanti la memoria e il nome di Peppino passato domenica mattina domenica mattina realmente altro appuntamento ho detto i due appuntamenti dell'ANPI il giorno precedente ci sarà un incontro quindi il venerdì ci sarà un incontro alla Cascina Cucanea alle 18.30 la domenica facciamo a pranzo con l'autore in un bel posto in un posto che è stato restituito alla comunità che è Rimake che si trova ad Afori era una banca è stata vuota per 10 anni e ci sono delle persone che all'interno di questa struttura portano avanti delle splendide iniziative e che hanno restituito un luogo alla comunità e è tornato a essere un bene comune vi ringrazio due parole mentre ci stanno preparando così almeno vengono sul palco con le chitarre e sentiamo se non più per la pubblica stasera io voglio solo dire che la nostra battaglia contro le sostanze cancerogene in fabbrica e nel territorio è una battaglia che riguarda tutti i cittadini le sostanze cancerogene hanno ucciso prima gli operai in fabbrica ma poi uscendo dalla fabbrica rispendendosi nelle varie nelle faglie azifere nel territorio hanno ucciso anche molti cittadini che non hanno mai visto la fabbrica oltre che i familiari degli operai e quindi la nostra è una battaglia non solo per la giustizia è una battaglia però che vogliamo che ci sia la bonifica del territorio perché vogliamo un ambiente pulito per noi per i nostri figli per i nostri nipoti quindi la nostra lotta è la lotta di tutti quelli che lottano per la giustizia che lottano per un mondo migliore e noi oggi vogliamo anche dire una cosa visto quello che c'è stato in questi giorni al Parco Nord con quello che hanno fatto le lapide degli operai deportati nei campi di sterminio nazista noi vogliamo ricordare che la lotta contro lo sfruttamento capitalista continua non è finita il fascismo è un crimine non è un'opinione e quindi noi nella nostra lotta per la giustizia continuiamo a dire che noi lottiamo contro lo sfruttamento degli esseri umani e della natura e naturalmente i fascisti che sono oppressori che hanno oppresso gli operai che hanno oppresso i cittadini che hanno distrutto con le guerre gli uomini nella natura sono un nostro nemico come tanti altri e noi con questa lotta continueremo stasera è una serata di festa siamo qui perché le canzoni dei gang raccontano anche queste storie e quindi per noi è un momento di festa e di gioia ce la godremo insieme a tutti voi grazie contro le sostanze cancerogene in fabbrica e nel territorio è una battaglia che riguarda tutti i cittadini le sostanze cancerogene hanno ucciso prima gli operai in fabbrica ma poi uscendo dalla fabbrica disperdendosi nelle varie nelle faglie azifere nel territorio hanno ucciso anche molti cittadini che non hanno mai visto la fabbrica oltre che i familiari degli operai e quindi la nostra è una battaglia non solo per la giustizia è una battaglia però che vogliamo che ci sia la bonifica del territorio perché vogliamo un ambiente pulito per noi per i nostri figli per i nostri nipoti quindi la nostra lotta è la lotta di tutti quelli che lottano per la giustizia che lottano per un mondo migliore e noi oggi vogliamo anche dire una cosa visto quello che c'è stato in questi giorni al Parco Nord con quello che hanno fatto le lapide degli operai deportati nei campi di sterminio nazista noi vogliamo ricordare che la lotta contro lo sfruttamento capitalista continua non è finita il fascismo è un crimine non è un'opinione e quindi noi nella nostra lotta per la giustizia continuiamo a dire che noi lottiamo contro lo sfruttamento degli esseri umani e della natura e naturalmente i fascisti che sono oppressori che hanno oppresso gli operai che hanno oppresso i cittadini che hanno distrutto con le guerre gli uomini della natura sono un nostro nemico come tanti altri e noi con questa lotta continueremo stasera è una serata di festa siamo qui perché le canzoni dei gang raccontano anche queste storie e quindi per noi è un momento di festa e di gioia ce la godremo insieme a tutti voi grazie 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 e ci siamo siamo finalmente in onda siamo siamo un po' emozionati però alla fine ce l'abbiamo fatta ci sono voluti mesi di lavoro trovare i soldi recuperare gli strumenti tecnici ebbene sì oggi iniziano i programmi di Radio 77 come si diceva una volta quegli Radio 77 emittente democratica che trasmette in modulazione di frequenza dunque siamo una sezione radiofonica che offre musica e parole che non ha padroni e soprattutto che non fa sconti a nessuno che si finanzia soltanto attraverso il contributo degli ascoltatori sia chiaro come vedete di mesi ne abbiamo pochi ma sono tutti essenziali microfono mixer e se chiudete gli occhi immaginate magari la prossima data lo facciamo un piatto un giradischio e questa bagione con la luce fiocca del resto Marshall McLuhan uno dei più importanti esperti di mass media scriveva se ci mettiamo a parlare in una stanza buia le parole assumono improvvisamente nuovi significati così alla fine tutte le qualità che la pagina stampata ha sottratto il linguaggio ritornano nel buio della radio e allora ecco qui immaginate è il disco di lacca che si appoggia delicatamente sul piatto e che prende i giri giusti il motorino che attraverso la cinghia lo fa muovere a 33 un terzo di giri al minuto e questo suono del disco che chiare sul piatto è come un sospiro veloce che sa appena un po' di polvere e il suono del braccio che si stacca dalla forcella è un singhiozzo trattenuto come uno schioccare di lingua di plastica il brano musicale che viene riprodotto tramite una puntina in diamante che poi viene inserita dentro nella testina e poi alla fine durante la rotazione trasmette per via meccanica tutte quelle terribili irregolarità del solco che però è stato inciso sulla superficie del disco e che trasmette tutto questo ad un complesso elettromagnetico che trasforma il movimento in una corrente elettrica e la puntina che sta escendo dentro nel solco si ibila pianissimo e poi scricchiola una, due, tre volte abbiamo pensato come si faceva la radio una volta e allora abbiamo detto allora partiamo dalla strada maestra di vita di straordinari incontri ci muoviamo da qui per poi andare lontano e per portare tutto quello che noi abbiamo visto quello che voi avete visto e imparato a casa per poi raccontarlo di nuovo per poi raccontarlo di nuovo a qualcuno in un altro viaggio da quando non ci sei la luna piange rosa e un corvo nero vola sopra la città e un corvo nero e un corvo nero becco tutto d'oro ed essi con le splendide e l'oscurità Bologna non c'è più se l'hanno presa loro è un cumulo di noia che spende e pari caro Bologna è una carogna che non ti muore vivo Dal mondo non ci sei, Bologna non c'è niente Non ti sei perso 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 niente Adò darei pazienza Grazie a tutti. Sappiamo che all'improvviso, come un movimento enorme composto da studenti disoccupati, lavoratori precari, sottoproletari, alla fine sembra essere uscito dalle cantine, dai centri occupati, dalle case, dai circoli e sta invadendo da settimane le piazze del nostro paese. È un movimento di migliaia di persone che non si riconoscono nei partiti della sinistra tradizionale, in particolare il Partito Comunista Italiano di Enrico Berlinguera. Non c'è un'organizzazione centrale. I ragazzi contestano tutto, il sindacato, il sindacato tradizionale, le istituzioni accademiche, quelle parlamentari. Ad esempio oggi, da quello che sappiamo, era in programma l'arrivo del segretario della CGL, Luciano Lama, all'università La Sapienza. Il servizio d'ordine del PC ha fatto quadrato intorno al sindacalista che su un palco improvvisato ha tentato di fare un discorso. Alla fine il camion rosso che seguiva da palco è stato praticamente ribaltato. Luciano Lama costretto a fuggire, stretto da un fitto cordone di militanti del PC e della CGL. Già 16 giorni fa, sempre a Roma, un gruppo di fascisti avevano attaccato studenti di sinistra e riuniti in assemblea alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma. La studente Guido Bellacchioma era stato ferito alla testa in modo grave. Gruppi di autonomi avevano saltato la sede Missina di Via Somma Campagna. La polizia aveva disperso gli studenti. Paolo Tomasini, Leonardo Fortuna, detti Paolo e Dardo, poi incriminati per tentato omicidio nei confronti dell'agente Domenico Arboletti, sono rimasti colpiti da armi da fuoco. Difficile, molto difficile per noi sapere che cosa potrà accadere. Nelle prossime settimane. Anche se il nostro omaggio ha fatto meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il vento, se il fuoco ha risparmiato le nostre mille cento, anche se voi vi credete a soldi, siete lo stesso coinvolgo. E se mi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente. O menti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi a soldi, siete lo stesso coinvolgo. E anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro occhio, la notte che le palentere ci bornevano in sedere, lasciandoci buona fede massacrare sul marciapiede. E anche se avete chiuso le vostre porte sul marciapiede. E anche se avete chiuso le vostre porte sul marciapiede. Senza fede, senza freni, senza granato, se avete preso per buone le verità nella televisione, anche se ora vi siete a soldi, siete lo stesso coinvolgo. Se credete noi che tutto sia come pari, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verranno ancora alle vostre porte. e più del meno ancora più forte, per quanto voi mi crediate a soldi, siete lo stesso coinvolgo. Per quanto voi mi crediate a soldi, siete per sempre coinvolgo. e più del meno ancora più forte, per quanto voi mi crediate a soldi, siete per sempre coinvolgo. Il suo racconto della cooperativa di Milano è il suo racconto tra musica, parole, rabbia, sogni e speranze. E allora, se sentite, in questo racconto ci sono delle canzoni che ti spaccano il cuore, che ti bloccano anche lo stomaco e non ti fanno respirare. Ci sono canzoni che sono scritte per aprire la mente, fatte di parole che più sono come maccini, messe su come fosse un delicato equilibrio tra poesia e armonia. E poi ci sono canzoni che non sono però destinate al grande pubblico, che tanto comunque non capirebbe. Pensate, per esempio, per vendere milioni di copie. Ci sono però canzoni che diventano immortali e sospese nel tempo che diventa eterno. A volte le riscopriamo così, d'improvviso, dentro cassetti di librerie polverose. Come se tu prendi un vecchio 45 ziri, lo trovi, no? Dentro la cassetta della nonna. Oppure altre volte le ritroviamo così in un momento qualsiasi di una giornata. Tipo che accende una radio così, tac! Tipo radio 77. E in un gesto, in un suono antico. E spesso, anzi molto spesso, queste canzoni ci fanno pensare ancora oggi. Io ti racconto lo sfollone di una vita vissuta oggi, di gente che non sa più farla poi. Io ti racconto la mia vita, il mio passato, il mio presente. Io ti racconto la mia vita, il mio passato, il mio presente. Anche se a te, lo so, non importa niente. Io ti racconto le settimane, ma te di angosce sovromane. Io ti racconto la mia vita, il mio passato, il mio passato, il mio passato, il mio passato, il mio passato. Io ti racconto la mia vita, il mio passato, 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 il mio passato. Io ti racconto tanta gente, che di me non capisce niente. Alla ricerca di un po' di una materia… Io ti racconto il carnevale, una festa che finisce male, la falsità di una città industriale. Io ti racconto il sogno strano, inseguire con la mano, l'orizzonte sempre più lontano. Io ti racconto la nevrosi, in libera con gli occhi chiusi, alla ricerca di una compagnia. Io ti racconto la nevrosi, in libera con gli occhi chiusi, alla ricerca di una città industriale. Lo sai che cos'è una guerra e quante ce ne sono in terra A cosa può servire una chitarra? Lo sai che siamo tutti morti e non ce ne siamo neanche accorti E poi continuiamo a dire cosa sia Lo sai che siamo tutti morti e non ce ne siamo neanche accorti E poi continuiamo a dire che così sia E un altro giorno è andato, la sua musica è finita Quanto tempo è ormai passato e passerà Le orchestre e i motori mi accompagnano il suo spirito Oggi dove è andato il diritto se ne avrà Se guardi nelle tasche di ansia Ritrovi il mio re che conosci già Ma il riso dei minuti da mi è pianto ormai Nel tempo andato non lo ritroverai Giornate senza senso come un mare senza letto Come perle di collane di tristezza Le volte nell'estate dall'inverno sono bagnate Fugge un cane come la tua giornata Nel tempo andato non lo ritroverai E poi continuiamo a dire che così sia 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 Sono volati schiavi E poi continuiamo a dire che così E poi continuiamo a dire che così sia 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 E poi continuiamo a dire che così E poi continuiamo a dire che così sia 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 E poi continuiamo a dire che così sia